La verità è che Murigno rischia, perché non è sicuro, rischia di lasciare la Roma nella stessa situazione in cui l'aveva trovata, l'aveva presa. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Roma-Siviglia. La Roma perde la finale di Europa League a Budapest dopo 146 minuti tra interruzioni e tempo effettivo. Partita decisa ai calci di rigore, decisivi i rigori sbagliati da Mancini e Ibagnez. La Roma perde questa finale di Europa League e perde l'occasione di qualificarsi come testa di serie alla prossima Champions League. Di qualificarsi proprio in generale alla prossima Champions League e adesso rischia addirittura di ritrovarsi a giocare alla Conference il prossimo anno se non dovesse vincere contro lo Spezia e se la Juventus dovesse poi scavalcarla in classifica. Io premetto subito che da tifoso della Lazio avrei pagato oro per giocarmi quantomeno una finale di Europa League. Avrei pagato oro, sinceramente. Poi è ovvio che una volta lì, soprattutto se incontri, per quanto mi riguarda, un Siviglia che non è minimamente paragonabile a quello del 2020 che per esempio vinse in finale contro l'Inter, se incontri questo Siviglia secondo me devi vincere. Soprattutto se parliamo di una finale di Europa League e non di una finale di Champions che ha sicuramente un valore diverso. Però avrei pagato oro soltanto per giocarmi una partita di questo tipo. Io ve lo dico subito, secondo me uno dei responsabili principali di questo fallimento, perché secondo me è un fallimento ragazzi soprattutto se parliamo della stagione della Roma, è Murigno. Uno dei responsabili, il responsabile principale di questo fallimento è Giuseppe Murigno. E inizio subito dalla partita, perché vedo sui social, da l'altro mi hanno riaperto Instagram stamattina che era stato chiuso per due giorni, non so bene per quale motivo, me l'hanno riaperto, io quindi ho dato una sbirciatina ai social. Nessuno parla della partita a livello tattico. Grande grinta, grande cuore, ma c'è anche una partita che va giocata a livello tattico. E secondo me la Roma ha sbagliato su tutta la linea, su tutta la linea, perché tu hai davanti a te una squadra che con tutto il rispetto ha una difesa imbarazzante. Perché il Siviglia di quest'anno ha una difesa imbarazzante e lo ha fatto vedere non soltanto in campionato che è undicesima, ma anche nella stessa Europa League, secondo me. Ha una difesa imbarazzante. Segni il gol dell'1-0 infatti con un filtrante di Mancini da centrocampo, letteralmente da centrocampo, con Di Bala che si trova solo davanti al portiere. E lì tu devi infierire. Cioè, ragazzi, lì tu devi infierire. Non puoi, dopo il gol di Di Bala, rinunciare ad attaccare. Perché la Roma questo ha fatto. Ed è questo quello che fa da due anni a questa parte. Ogni volta che passa in vantaggio, rifiuta di attaccare. Si mette tutta dietro, tutta dietro la linea del pallone, sperando in un certo gioco da parte di Abram o Belotti, ma Abram secondo me non ce l'ha nelle sue corde un gioco del genere. Far salire la squadra, tenere il pallone in mezzo a tutta la difesa del Siviglia. Non è così che funziona. La Roma lì deve infierire. Hai davanti a te una difesa imbarazzante. Guarda come hai segnato. Cioè, devi assolutamente infierire. Invece la Roma ha rinunciato ad attaccare. Ha ripreso ad attaccare dopo il pareggio del Siviglia. Autogol di Mancini. E qui, permettetemi, godo particolarmente. Io per l'autogol di Mancini e per il rigore sbagliato di Mancini godo perché è un calciatore che personalmente disprezzo. Cioè, lo disprezzo come calciatore ma soprattutto come uomo. Proprio alla grande. E quindi il Siviglia pareggia nel secondo tempo, secondo me meritatamente. Ripeto, la partita va commentata a livello tattico. Perché il calcio non è soltanto grinta, cuore e questa roba qua. Cioè, Murimio in due anni non ha dato un'identità di gioco a questa squadra. Non ha dato un'identità di gioco. Perdi ai rigori e sbagli i rigoristi. Perché qui nessuno ne parla ma per quanto mi riguarda è una follia. Far battere i primi tre rigori a Cristante, Ibagnez e Mancini. Capisco che, vabbè, Di Balla lo hai dovuto togliere ad un certo punto. Non capisco perché sia uscito Pellegrini. Io la partita l'ho vista, tra l'altro, col Casino. Quindi non ho neanche sentito la telecronaca. Non so per quale motivo sia stato tolto Pellegrini prima dei calci di rigore. Però avevi altri calciatori che potevano tirare il rigore. Wijnaldum, Escharawi, Zaleski. Sono calciatori che avrebbero potuto calciare tranquillamente. Invece almeno uno di questi tre sarebbe rimasto fuori dai primi cinque. Per far tirare il rigore ai Bagnez, che con i piedi ci litiga. A me è sembrata una follia. Cioè, una scelta completamente scellerata da parte di Murimio. Scellerata. Ed è per questo che secondo me è il responsabile principale di questa sconfitta. Perché perdere in finale è una sconfitta. Ma se pensiamo alla stagione della Roma e come è stata gestita la stagione della Roma, è un fallimento. È un fallimento, ragazzi. Perché si parla tanto di Sarri. Viene tanto presa in giro la Lazio perché è arrivata seconda o perché sta arrivando seconda avendo rinunciato alle coppe a metà marzo. Ma se la Lazio da una parte ha rinunciato, tra virgolette, alle coppe, quindi alla Conference League a metà marzo, dall'altra parte la Roma ha rinunciato al campionato a partire da metà marzo. Perché questo è fattuale. La sconfitta in casa contro il Sassuolo, pareggiare a Monza, pareggiare a Bologna, pareggiare in casa contro la Salernitana. La Roma, attraverso il campionato, sarebbe potuta entrare tra le prime quattro con la pipa in bocca, con la pipa in bocca, soprattutto alla luce del campionato del Milan. Sarebbe potuta entrare in Champions nelle prime quattro con la pipa in bocca. Invece ha buttato una marea di punti per concentrarsi sull'Europa League ed è stato un grandissimo rischio. Un grandissimo rischio. E perché è stato corso questo rischio? Io lo ripeto. Le parole di Sarri. Io vi cito le parole di Sarri nell'ultima conferenza stampa. Lui dice in pratica che non gliene frega niente di vincere una Coppa Italia, una Supercoppa italiana. O meglio, gli fregherebbe per il curriculum. Ma lui non interessa nulla del curriculum. Lui vuole fare crescere la Lazio. Vuole fare crescere la Lazio come club. E quale miglior modo di una qualificazione in Champions e di continuare a qualificarsi per la Champions, per crescere a livello economico e per crescere a livello di brand e di squadra, di conseguenza di squadra. Questo è. Quindi Sarri ragiona per il bene della società e per il bene del club. Murigno ha ragionato quest'anno per il bene suo. E ha ragionato egoisticamente. Perché ha rinunciato a raggiungere la Champions attraverso il campionato per vincere un'Europa scusa, non per vincere, per provare a vincere un'Europa League. E dal momento che non la vinci, ti ritrovi col cerino in mano. Ti ritrovi con un pugno di mosche. Perché questo è. La Roma rischia addirittura di non qualificarsi per l'Europa League del prossimo anno. Cioè rischia di ritrovarsi in Conference. Il secondo anno di Murigno è letteralmente quasi identico, spiccicato, al secondo anno di Fonseca. Soprattutto a livello di risultati. Perché Fonseca uscì in Coppa Italia contro l'Ospezia. E in campionato arrivò settimo. La Roma sul campo è settima in classifica. Perché se non fosse per la penalizzazione della Juventus la Roma sarebbe settima in classifica. Per punti fatti. E in Europa League Fonseca è uscito in semifinale contro il Manchester United. La Roma non ha incontrato il Manchester United, ha incontrato il Bayer Leverkusen in semifinale. Ma ha perso in finale contro un Siviglia che sicuramente è più scarso sulla carta rispetto al Manchester United che eliminò Fonseca. Quindi in realtà questa stagione della Roma è quasi identica, spiccicata, alla seconda stagione di Fonseca. La verità è che Murigno rischia, perché non è sicuro, rischia di lasciare la Roma nella stessa situazione in cui l'aveva trovata, l'aveva presa. E secondo me questa è una cosa gravissima e non ne sta parlando nessuno. Non ne sta parlando nessuno. Si parla di grinta, si parla di voglia, si parla che hai vinto la conference. Certo, Fonseca non l'ha giocata la conference. Altrimenti probabilmente l'avrebbe vinta anche lui. Non l'ha giocata la conference, Fonseca. Qui si parla di grinta, si parla di voglia, ma la verità è che Murigno, rischia di non lasciare nulla alla Roma, se non una conference dig, che prima di Murigno neanche esisteva. Questo è. A me sembra veramente folle. Poi ci sarebbe da fare un discorso sul calciomercato. Io sono stato letteralmente insultato quando ad agosto o a luglio, non mi ricordo quando, feci il video sul mercato della Roma, dicendo determinate cose che poi si sono rivelate vere. Si sono rivelate vere. Ok, io soltanto due cose ho sbagliato in quel video. Il giudizio sull'acquisto di Belotti e il giudizio sull'acquisto di Matic. Li ho praticamente invertiti. Ho sottovalutato l'acquisto di Matic e ho sopravvalutato quello di Belotti. E qui faccio mea culpa. Ho sbagliato su tutta la linea. Belotti è stato il peggior acquisto della Roma, per come ha reso. Matic è stato il migliore acquisto del mercato della Roma. Però altre cose vanno dette. Io vi parlai del rischio infortuni di Dybala e veni insultato per questo. Vi parlai delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare Wijnaldum a livello tattico e così è stato. Indipendentemente dalle infortuni, o che sicuramente non era previsto, è stato molto sfortunato, però Wijnaldum gli ultimi mesi li ha giocati. Ha giocato una finale ridicola, Wijnaldum. Ha giocato una finale ridicola. Questo è. E vi parlai anche dell'addio di Zaniolo, che secondo me era praticamente scontato. E veni insultato anche per questo. Chi te lo dice che Zaniolo vuole andare via? È stato ceduto. E io sono stato letteralmente insultato da una marea di romanisti per quel video. Dove ho detto semplicemente la mia e nella maggior parte delle cose ho visto giusto. Però ripeto, secondo me c'è una sopravvalutazione di quella che è stata la stagione a Roma, ma io penso che molti romanisti se ne renderanno conto a freddo. Perché magari adesso siamo ancora a caldo, la finale è finita da poco, e quindi magari non c'è un giudizio molto a 360 gradi del tutto. Credo che presto ci sarà. Ripeto, secondo me Mourinho è il responsabile principale di questo fallimento, perché la stagione a Roma è fallimentare. È fallimentare. Se la Roma non dovesse essere scavalcata dalla Juventus in campionato, si ritroverebbe in Conference League. Questa secondo me è una cosa gravissima. Sarebbe una cosa gravissima. Poi non lo so. Ditemi qualcosa nel messaggio nei commenti, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!